Con il termine boia identifichiamo tradizionalmente l'esecutore delle condanne a morte, delle condanne capitali. Nella iconografia classica il boia è quel personaggio a volte a petto nudo, ma sempre con un cappuccio nero in testa. Una precauzione, si diceva in antichità, perché il condannato a morte non potesse vedere in volto l'uomo che gli avrebbe tolto la vita e magari lanciargli una maledizione, oppure una volta arrivato nell'aldilà, sussurrarne il nome affinché fosse dannato per sempre. Certo, sono superstizioni, però per lungo tempo la ragione umana è stata offuscata dalle superstizioni e quindi il cappuccio nero del boia è rimasto nell'immaginario collettivo. Ma boia è anche un appellativo che viene distribuito storicamente a personaggi oscuri, personaggi che dedicano la propria esistenza all'assassinio, alla tortura, all'omicidio di massa. I boia sono personaggi oscuri, sono personaggi che a volte vengono visti come dei mostri dalle fattezze umane. Mostri che però, quando arrivano il momento di pagare il conto per quanto fatto, no, non vogliono pagare. E cercano di sottrarsi alla giustizia, consci di aver compiuto appunto delle mostruosità. A volte la vita presenta comunque loro il conto, in qualche forma. Altre volte li lascia liberi, per troppo tempo, e quel conto viene saldato solo alla fine. È il caso di un uomo, un uomo dei tanti nomi. Un uomo che per un certo periodo si fa chiamare Altman, ma non è il suo vero nome. Un uomo che per un lungo periodo della propria vita ha vissuto in Sud America, combinandone di tutti i colori, nascondendosi da un passato molto buio, ma proponendosi come un personaggio ancora molto oscuro e con le mani sempre grondanti di sangue. Un uomo che solo, nella fase finale della propria esistenza, è stato chiamato a rispondere di quanto ha fatto. E che nonostante fosse davanti a un tribunale, continuava a farsi beffe della giustizia, a cercare in ogni modo di sottrarsi alla giustizia. Finché appunto, come abbiamo detto, la storia e la vita non gli hanno presentato il conto da pagare. Un uomo di nome Nicolaus, Klaus Barbie. La nostra storia inizia all'inizio degli anni Ottanta. È un po' tardi, però serve poi a riannodare il filo dell'esistenza di questo personaggio. All'inizio degli anni Ottanta, in Bolivia, succede qualcosa. La Bolivia, lo sappiamo, è uno stato dell'America meridionale, del Sud America, che, come tanti altri stati della zona, ha vissuto un periodo assai turbolento nel secolo scorso, con tante dittature di stampo militare, con delle guerriglie, con tanti morti ammazzati. Ebbene, cosa succede in Bolivia? Nel 1981 una rivolta, una rivolta militare, rovescia un governo dittatoriale, il governo Garcia. Da quel momento si succedono rapidamente degli esecutivi militari tutti di breve durata. Perché si sa, i militari sono lesti a prendere il potere, ma il più delle volte non sanno cosa farsene. E quindi commettono errori politici, uno dopo l'altro. Lo si è visto anche parecchi decenni prima in Portogallo, dove i militari avevano schiacciato la democrazia, e dopo non aver saputo cosa fare per tanto tempo, si erano affidati ad Antonio Salasaro, che aveva avviato una sua personalissima dittatura. In Bolivia però non c'è un Salasaro, non c'è un Franco, non c'è nessuno tra le fine dei militari che sappia cosa farsene di quel potere. Soprattutto non c'è nessuno che sappia risolvere i gravissimi problemi economici che attanagliano in quel periodo il paese sudamericano. Quindi cosa fanno alla fine dei militari? Niente. O meglio, dopo nemmeno due anni decidono di riconvocare il Parlamento. Quindi di sostanzialmente rimettere il potere nelle mani dei rappresentanti popolari. Come se fosse successo nulla. Incredibile, no? Ebbene, nell'ottobre del 1982 il congresso boliviano riprende pieni poteri, che prima erano ridotti dalla presenza di un dittatore, il dittatore García, e Herman Siles Suazo torna a essere presidente. Tra l'altro lo era già stato parecchi anni prima, nel 1957. Con il ritorno pieno della democrazia, con l'avvio di una fase di transizione verso la libertà piena, la Bolivia affronta una fase di autocritica su tutto quello che era avvenuto nei decenni precedenti e concede anche l'estradizione di un uomo. Un uomo arrestato per truffa. Ma l'estradizione non è stata chiesta per il reato di truffa. È stata richiesta per i reati di sequestro di persona, tortura, uccisione di massa, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, capi di imputazione molto pesanti e che, alla fine, nel 1983, non possono essere più ignorati. La magistratura boliviana concede l'estradizione di quest'uomo. Un uomo di nome Nikolaus, detto Klaus Barbie. Un uomo che era entrato in Bolivia parecchi decenni prima, con un passaporto falso, un'identità di comodo e sfruttando tanto le amicizie e la collaborazione con i servizi militari americani, quanto le linee di fuga organizzate in Europa dalle reti messe in piede dagli ex gerarchi nazisti e da un sacerdote, padre Krunoslav Draganovic. Ne abbiamo già parlato in un apposito video che vi invito a riguardare. Se non lo conoscete, padre Draganovic fu uno dei criminali di guerra a Ustascia, membro del regime di Ante Pavelic, che favorì la fuga in Sud America di centinaia di criminali di guerra e criminali contro l'umanità, sottraendoli ai tribunali e alla giustizia post-bellica. Klaus Barbie era un uomo in fuga parecchi decenni prima, prima della sua estradizione. Era un uomo in fuga già dal 1951, anzi prima ancora volendo, molto prima. Klaus Barbie si nascondeva, sì dal 1945, nell'Asia, dove aveva messo in piedi una rete di ex nazisti che si era poi proposta come collaboratori del Counter Intelligence Corps, il controspionaggio militare americano, che poi è evoluto e ha cambiato nome in quel tempo. Ma come mai gli americani avevano accettato la proposta di un nazista in fuga e dei suoi amici? Torniamo ancora più indietro nel tempo, torniamo agli anni 30, quando Klaus Barbie è poco più di un ragazzo, ha poco più di vent'anni, disoccupato, nulla da fare, si iscrive al partito nazista, inizialmente entra nell'ESA, fa il guardiano nei primi campi di concentramento, dove si segnala per brutalità. Di lì a poco passa alle SS, poco prima della grande purga della Notte di Lunghi Coltelli. Klaus Barbie è un manovale della violenza, non è un picchiatore, è molto peggio, è un uomo che sa mettersi al servizio del dolore, del dolore fisico, sa come procurare dolore alle persone, nei modi più efferati, e questo suo particolare talento lo porta nel 1940 in Francia. La Francia viene occupata in larga parte dall'esercito tedesco nella primavera e inizio estate del 1940 e a partire da quell'estate Klaus Barbie si trova a Lione, in quella che è la Francia di Vichy, il regime collaborazionista di Pétain, ne abbiamo parlato brevemente in altri video. Lì Klaus Barbie mette in piedi una sezione del Sikeraiz, del Servizio di Sicurezza, un nome che nasconde in realtà un apparato repressivo, poliziesco, un apparato incaricato di reprimere la lotta partigiana, che in Francia si chiama colloquialmente il Machis. Ebbene Klaus Barbie fino all'estate, inizio autunno del 1944, diventa sinonimo di terrore. Nel suo quartier generale, stabilito in un hotel della città, crea delle camere della tortura, perché per Klaus Barbie non c'è nessun altro modo per estorcere informazioni affidabili, se non appunto torturare. E chi tortura? I passanti. Ha un metodo veramente agghiacciante, Klaus Barbie, per scegliere le proprie vittime. Le sue pattuglie passano per le strade, catturano, diremo il primo che passa, lo arrestano, lo portano al quartier generale dell'SD di Lione, lo affidano nelle mani di Klaus Barbie e della sua equip, che da quel momento in avanti ricorrono alle torture peggiori, strappano le unghie delle mani e dei piedi, bastonano sulle articolazioni, sperimentano il waterboarding, l'assideramento, le frustate, quei cavi elettrici o gli elettrodi stessi, finché il prigioniero non dice basta, finché non dice tutto quello che sa. Se è qualcosa di ininfluente, poco male. Se invece sa qualcosa, allora in quel momento, pur di far cessare quel dolore lancinante, quei continui ricorsi alla tortura, allora dirà tutto, ma proprio tutto. E in questo modo Klaus Barbie diventa il boia di Lione e diventa anche il primo cacciatore di partigiani in Francia. Il numero uno conferma questa etichetta, catturando Jean Moulin, il capo della resistenza francese, assieme a un paio di suoi collaboratori. Jean Moulin morirà sotto le sgrifie di Klaus Barbie e dei suoi torturatori. Verrà ucciso proprio a forza di torture continue. Diventerà un simbolo Jean Moulin. Ma non sarà il solo uomo ucciso da Klaus Barbie. Se ne conteranno a centinaia. Barbie ordina anche impiccagioni. Lascia che la divisione Panzer delle SS, das Reich, faccia intere stragi di prigionieri. È un boia. Non è però un grande detective. Tant'è vero che, lo abbiamo già visto parlando del colonnello Frederick Yeo Thomas, il coniglio bianco, qualche volta si ritrova i partigiani, o come nel caso di Yeo Thomas, gli agenti britannici, a pochi metri di distanza e non li riconosce, non li cattura. Li cattura dopo, attraverso le soffiate, perché mette in piedi anche una grossa rete di agenti doppiogiotichisti, di francesi che lo informano in cambio magari di qualche genere di conforto o di lascia passare o di altri favori. Frederick Yeo Thomas viene catturato agli uomini di Barbie, portato non a Lione, ma in Avenue Foch, a Parigi, dove altri uomini di Barbie lo torturano, non a morte, ma lo torturano in continuazione. Di lui abbiamo già parlato in apposito video, lo potete andare a rivedere nel nostro canale. Klaus Barbie trascorre, questo lungo periodo, torturando e ammazzando un sacco di gente, finché il suo paradiso della tortura non finisce, perché nel settembre del 44 la guerra ormai è persa per la Germania, gli alleati sono già entrati a Parigi, nel sud della Francia sono sbarcati con l'operazione Dragun, quindi Barbie cosa fa? Brucia tutto l'archivio di Lione, fa uccidere tutti i collaborazionisti francesi che possono averlo conosciuto, fa ammazzare anche gli ultimi prigionieri della sua prigione delle torture personale, e scappa, scappa in Germania, cerca rifugio tra gli amici, tra i familiari, tenta anche di cambiare identità, finché non viene scovato dagli americani in Assia. E lì Barbie decide di mettersi al servizio di un nuovo padrone. Ha capito Barbie che gli americani non si fidano dei sovietici, anzi, che ormai la guerra finita sta per iniziare un'altra guerra, la famosa guerra fredda, il confronto a distanza fra Est e Ovest, una guerra in cui uomini come Barbie possono rivestire una certa utilità. Per cinque anni, dal 1946 al 1951, Klaus Barbie e i suoi sodali si mettono al servizio del Counter Intelligence Corps, identificando presunti agenti comunisti e sindacalisti tedeschi. Alcuni vengono arrestati, altri vengono sottoposti a indagini, qualcuno sparisce nel nulla. C'è chi dice sequestrato ed ammazzato sempre a suon di torture da Barbie e dai suoi amici. Nel frattempo i francesi, che sono sì alleati degli americani, ma non dimenticano tutto quello che è avvenuto durante la guerra, indagano, comincia a indagare su Klaus Barbie, che è presente col suo nome in un lunghissimo elenco di ricercati. È un elenco sterminato che comprende Gerarchi, Martin Bormann, si saprà dopo che era morto a Berlino, Erich Müller, l'ex capo della Gestapo scomparso nel nulla di cui non si è più saputo niente, ma anche tanti altri, come il medico diabolico di Auschwitz, Josef Mengele, e non solo, che sono spariti nel nulla e che devono rispondere di quanto hanno fatto. In quel lungo elenco c'è anche il nome di Barbie, che nel 1951 viene scaricato dal Counter Intelligence Corps, che giudica non più necessario il ricorso a quella bassa manovalanza. Da quel momento in avanti Barbie è un uomo in fuga. E come fugge Barbie? Dove fugge? Fugge attraverso la Baviera, dove aveva già spostato la sua famiglia protetta dagli americani, Austria, Italia. Anche lui arriva a Merano, quella bella cittadina in provincia di Bolzano rinomata per le cure termali. Merano è un centro di smistamento dell'Odessa, l'organizzazione degli ex membri dell'SS. Qui Barbie entra in contatto con le linee organizzate da padre Krunoslav Draganovic. Quel percorso chiamato Via dei Monasteri o Via dei Topi che passa attraverso conventi e chiese e porta dall'Alto Adige fino a Genova. Con un passaporto della Croce Rossa, la Croce Rossa internazionale, in cui viene riportato il falso nome di Klaus Altman, Klaus Barbie si imbarca per l'Argentina. Con sé, oltre al passaporto della Croce Rossa, ha altri due documenti. Una lettera di accompagnamento firmata proprio da padre Draganovic, che lo aveva prima fatto transitare per l'Italia e che poi gli aveva procurato il biglietto di viaggio. E un documento sottoscritto da un guardiano della comunità francescana-boliviana, padre Rocke Romau. Ebbene, con questi documenti, Altman, o meglio, Barbie, presenta domanda di ingresso in Bolivia, che gli viene garantita. Tant'è vero che il 16 marzo del 51 Barbie si imbarca a Genova su un piroscofo, il Corrientes, e parte verso Buenos Aires. Dall'Argentina passa in Bolivia, dove arriva nel 55. E due anni dopo acquisisce la cittadinanza boliviana, sempre con quel nome fasullo, Klaus Altman, cui aggiunge Hansen. Si spaccia per meccanico, originario di Brasov, un grosso comune della Romania che durante la guerra ospitava una forte comunità tedesca. Ovviamente sono tutte balle, sono tutte invenzioni. Quello che interessa a Barbie è ricostruirsi una nuova vita col suo nuovo nome e continuando a fare quello che gli riesce meglio. Già, perché in Bolivia Barbie non resta con le mani in mano. Nel breve volgere di qualche mese viene coinvolto dai militari locali foraggiati dai servizi americani nel colpo di Stato di Garcia, Luis Garcia Meza Tejada ed è lui a portare avanti tutto ciò che può essere un aiuto al nuovo regime. Un regime che si basa sostanzialmente su due pilastri. Il primo è il narcotraffico. La Bolivia produce cocaina, foglie di coca che poi vengono trasformate e commercializzate nel mercato degli stupefacenti e che servono a sostenere lo sforzo bellico del regime. La paura è la seconda colonna portante che la giunta militare boliviana utilizza nei confronti dei campesinos, degli agricoltori, degli studenti, di chiunque possa opporsi. La paura. Una paura folle, una paura che viene portata avanti da gente proprio come Crosbarby alias Altman che lavora a quei peggiori dittatori con Garzia, con Ortugno, con tutti i generali boliviani che si succedono uno dopo l'altro e Garzia poi torna al potere anche più avanti alla guida del paese. E cosa fa Barbier per loro? Da un lato partecipa al contrabbando, partecipa a modo suo, mette in piedi una attività di commercio e poi si fa nominare presidente della società statale di navigazione, la Transmaritima. Con quella Barbier dà via una grossa operazione di traffico non solo di droga ma anche di armi e per il resto si occupa di eliminare tutti i personaggi scomodi. Si dice che lo stesso Barbier si è coinvolto nella caccia a Ernesto Che Guevara, il rivoluzionario argentino che era stato simbolo della rivoluzione cubana e che si era spostato in Bolivia per tentare di pungolare la popolazione a ribellarsi contro i militari. Pare che ci sia anche la traccia di Barbier e le sue impronte digitali figurate chiaramente sulla cattura e la morte di Che Guevara a Laigheira nel 1967. Quello che invece è certo è che ci sono le tracce e le impronte digitali vere non figurate di Barbier sulla cattura e la morte per tortura di Monica Ertel una ragazza tedesca una ragazza che era figlia anch'essa di un tedesco espatriato per motivi bellici il padre era un cino operatore molto legato al regime nazista e temeva di dover pagare un conto salato anche se non era materialmente coinvolto nelle barbari del regime Monica Ertel aveva fatto la spola tra la Bolivia e la Germania Ovest portando avanti l'idea della rivoluzione Monica Ertel conosceva Klaus Altman alias Barbier lo chiamava zio Klaus e quello zio decise di sequestrare Monica Ertel e ucciderla ucciderla con feroci torture e ferate brutali di cui non possiamo dare per rispetto nei confronti della vittima i dettagli la colpa di Monica Ertel è stata quella di aver ucciso nel 1971 ad Hamburgo con tre colpi di pistola Roberto Quintanilla l'uomo che aveva guidato il commando omicida che aveva rintracciato e ucciso Ernesto Che Guevara l'uomo che si era fatto ritrarre in quella famosa fotografia col cadavere di Guevara per questo Monica Ertel doveva morire Barbier si era incaricato di scovarla attirarla in trappola e ucciderla e nonostante il padre di Monica avesse saputo della scomparsa della figlia lo zio Klaus negò fino all'ultimo non solo di essere coinvolto nella sparizione della ragazza ma anche di sapere dove fosse sepolta un mostro un boia Klaus Barbie un boia di cui però non si erano perse le tracce un boia che la giustizia francese continuava a cercare nonostante ci fossero ostacoli di vario tipo da parte della Bolivia ma anche degli Stati Uniti un boia cercato anche dalla giustizia tedesca dalla commissione Z di Ludwigsburg dal procuratore generale di Monaco di Baviera e da una coppia di cacciatori di nazisti i coniugi Klarsfeld Serge rumeno e Beate la sua moglie tedesca che all'inizio del 1972 scovarono Klaus Barbie in Bolivia scoprirono anche il suo pseudonimo Altman e con quel dossier molto corposo sulle sue spalle presentarono richiesta di estradizione al governo boliviano che ovviamente fece spallucce era troppo utile Klaus Barbie stava facendo lavoro sporco stava facendo quello che avrebbero fatto successivamente i torturatori di Augusto Pinochet in Cile o quelli di Videle Galtieri in Argentina stava facendo pulizia secondo i militari boliviani stava facendo un lavoro che nessun altro avrebbe voluto fare nel frattempo Barbie si sentiva così al sicuro da concedersi addirittura dall'intervista con la stampa in una rilasciata al giornale brasiliano Estado do Brasil arrivò addirittura ad affermare che lui Klaus Altman in realtà era Klaus Barbie tanto disse non ho più nulla da perdere tanto qui sto bene arrivò anche a dire successivamente che era fiero di quello che aveva fatto durante la guerra che in fondo la Francia avrebbe dovuto ringraziarlo non perseguirlo secondo Barbie se lui non si fosse adoperato come boia arrestando torturando uccidendo persone su persone su persone la Francia sarebbe diventata una repubblica marxista o addirittura un satellite dell'URSS curioso come i criminali di guerra a volte manipolino la realtà e la storia a proprio uso e consumo andiamo avanti come abbiamo detto nel 1981 in Bolivia le cose cambiano Barbie viene arrestato per una truffa nel frattempo ammette che non gli è rimasto più nulla al mondo il figlio Klaus è morto in un incidente stradale sua moglie è morta di tumore la sua vita l'ha vissuta non ha ancora compiuto 70 anni ma non si pente di nulla nel 1983 come detto Barbie viene estradato in Francia sul suo capo pendono parecchie accuse massacri di ostaggi arresto e tortura di persone innocenti rastrellamenti rappresaglie deportazioni sia di francesi partigiani che di ebrei fucilazione di ostaggi di prigionieri la morte di Jean Moulin l'arresto e la tortura brutale contro il coniglio bianco di O. Thomas c'è di tutto nel suo dossier tra l'altro si scopre che l'FBI la CIA e anche il dipartimento di giustizia americano sono in possesso di corposi dossier sul suo conto centinaia di pagine che confermano come a Washington sapessero benissimo dove si trovasse Klaus Barbie e cosa stesse facendo cosa avesse fatto durante la guerra e cosa avesse fatto dopo per gli americani e per i boliviani è uno scandalo un vero scandalo Charles Barbie estradato in Francia sostiene il processo in maniera spavalla rifiuta di essere chiamato col suo vero nome dice di chiamarsi Klaus Altman dice di non essere colpevole che l'estradizione era illegale che lui in fronto era cittadino boliviano quest'ultima affermazione effettivamente era vera aveva acquisito la cittadinanza ormai da tanti anni e alla fine disse che su tutto ciò che gli veniva contestato tutte quelle accuse mostruose lui non aveva niente da dire alcune delle accuse mosse a Barbie sarebbero decadute durante il giudizio a causa di una legge varata per proteggere alcune categorie di persone che erano rimaste coinvolte nelle vicende della Francia di Vichy o dell'Algeria francese l'avvocato di Barbie nominato d'ufficio Jacques Verge tra l'altro un ex militante comunista asserì in maniera polemica che le azioni del suo assistito non erano state peggiori di quelle commesse dalle potenze coloniali un po' in tutto il mondo curioso Klaus Barbie alla fine venne difeso lui nazista da un ex comunista forse ricorsi storici Barbie stesso prima della condanna arrivò a dire quando sarò dinanzi a Dio allora verrà giudicato innocente buffo chissà se Dio l'ha giudicato davvero innocente la giustizia umana ha giudicato Klaus Barbie colpevole e lo ha condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità Klaus Barbie è morto 4 anni dopo la condanna il 25 settembre 1991 in carcere per l'eucemia contratta alcuni anni prima non aveva ancora compiuto 78 anni 78 anni trascorsi in buona parte all'insegna della violenza all'insegna del sangue di cui portava traccia sulle mani sangue innocente il sangue di bambini lavoratori ebrei partigiani spie soldati comuni di guerriglieri di Ernesto Che Guevara di Monica Ertel il sangue di tante persone e allora c'è da chiedersi è possibile perdonare può esistere il perdono per figure così oscure che hanno dedicato la loro vita alla violenza alla soprafazione all'omicidio alla tortura alla negazione di qualsiasi principio umano io non riesco a dare una risposta lascio a voi questo interrogativo e quando sentite parlare di torture brutali da parte magari di chi le ha subite ed è riuscito a sopravvivere pensate che a volte la nostra natura umana può tirar fuori il peggio può tirar fuori veramente il mostro che può annidarsi in chiunque tra noi pensateci bene pensateci bene grazie a tutti grazie a tutti